Il cibo aiuta a tollerare meglio le terapie ma non le sostituisce. L'organismo, quando è sottoposto a trattamenti invasivi come la chemio e la radio, necessita di molte energie. Lo stato nutrizionale di un paziente è il risultato di quello che mangia. L'Istituto Oncologico Veneto le persone vengono educate ad alimentarsi mentre si stanno sottoponendo alle cure. È bene già ad adesso chiarire che comunque l'alimentazione da sola non è in grado di curare il tumore. La cura del tumore è la chemioterapia e i trattamenti chirurgici piuttosto che la radioterapia. L'alimentazione ha un ruolo fondamentale come supporto affinché queste cure siano più efficaci. Quindi un messaggio diretto a chi illude con composti alimentari, mi viene in mente il limone con il bicarbonato, con alimenti naturali che possano combattere le cellule neoplastiche. Assolutamente no. Concordo, esatto. Non abbiamo dati in nessun modo, in nessun maniera che queste cose siano efficaci. Parlo della dieta alcalina piuttosto che diete vegane o macrobiotiche. Nessuna di queste si è dimostrata valida in termini di miglioramento degli outcome in questo tipo di pazienti. Anzi, metto in allerta chi ci ascolta, queste diete sono tendenzialmente ipocaloriche e quindi per le persone che devono affrontare una chemioterapia per una malattia in stato un po' più avanzato sono potenzialmente dannose perché possono causare malnutrizione e quindi le società scientifiche principali, sia in ambito oncologico che le nostre nutrizionali, non le raccomandano. Cosa bisogna allora mangiare quando si è in fase di trattamento per delle cure oncologiche? Bisogna innanzitutto distinguere due gruppi di pazienti. Possiamo individuare un primo grande gruppo di pazienti che magari è stato sottoposto già alla chirurgia. Faccio un esempio, un tumore dell'intestino o più comunemente un tumore della mammella e che poi per rafforzare l'effetto già curativo e guaritivo dell'intervento chirurgico viene sottoposto a un ciclo di chemioterapia. In questo caso i pazienti normalmente o non hanno problemi di peso in senso di malnutrizione oppure è più facile che proprio per questi trattamenti tendano a aumentare di peso, quindi a avere problemi di sovrappeso o di obesità, sia di partenza che dopo le trattamenti, le terapie. C'è chi aumenta e chi perde peso durante le terapie, perché aumenta la dieta più indicata è quella mediterranea con rapporto di pesce azzurro. La convivenza, l'attività fisica, le classiche cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, però cercando di sbilanciarsi un po' più sulla verdura che sulla frutta, altrimenti troppo zucchero. A ogni pasto è importante che ci sia una porzione di carboidrati complessi. Cosa sono i carboidrati complessi? Il pane, la pasta, il riso o i cereali, adesso c'è anche la moda, sono tornati alla moda, il farro, l'orzo. Quindi bisogna assumerli, perché c'è sempre paura che i carboidrati facciano ingrassare, soprattutto la sera, invece no. Invece no, tutto con parsimonia, è la porzione che fa la differenza, è la quantità, ma è la benzina nel nostro corpo e quindi a ogni pasto vanno comunque inseriti. Se li prendiamo integrali è meglio, perché il controllo del profilo glicemico e quindi insulinemico è migliore. I formaggi, che associano proteine e grassi, sono indicati nei pazienti che accusano un calo ponderale. Chi perde peso di solito è o perché ha una malattia in una sede cruciale, tutto il tratto gastrointestinale, per esempio, o perché comunque la malattia è non stata un po' più avanzata. Il calo di peso in questo caso si accompagna sicuramente anche a una perdita di massa muscolare. Ed è il muscolo, la perdita del muscolo, che fa peggiorare la clinica della persona, che si sente più stanca, più debilitata e che tollera meno i trattamenti. In questo caso la cosa più importante è sostenere l'organismo, sostenere quindi il fisico e quindi dare un apporto sia di energie che di proteine e di muscolo adeguato. Quindi in questo caso possiamo anche, per questo periodo della nostra vita, optare per scelte meno salutistiche e quindi abbondare su un po' di tutto. Siccome spesso però i pazienti non hanno tanto appetito o hanno anche un senso di santità precoce, giustificato da tutto il quadro, sia dalla malattia che dagli effetti delle terapie, che dalla paura, magari anche il dolore, la preoccupazione dei cari che a volte si fa pressante, allora le strategie migliori sono quello di frazionare, non solo colazione, pranzo e cena, ma aggiungere gli spuntini e quel poco che riesco a mangiare che sia bello calorico. I legumi con i cereali sono il piatto ideale, forniscono energia e proteine senza grassi.